Ancora siamo con dei dati parziali, però il trend sembra questo. Io ringrazio tutti coloro i quali sono andati a votare, a prescindere che abbiano votato per questa coalizione o per altre coalizioni e candidati a sindaco, perché è comunque una giornata importante e un esercito da il proprio diritto. E' chiaro che se dovessero essere confermati questi dati avremo la responsabilità di continuare e migliorare l'esperienza di questi ultimi cinque anni. Abbiamo un programma abbastanza chiaro che abbiamo portato in questa campagna elettorale e raccontato alla gente. Ci sono alcune opere che dobbiamo completare e altre che si devono avviare a breve, come l'housing sociale, la riqualificazione del mulino e della Sicilcalce e lo studio di Aspra, così come alcune opere che ancora sono in fase di completamento, come la cosa molto importante dell'area artigianale, in modo tale di poter dare agli imprenditori la possibilità di ampliare la loro offerta e capacità lavorativa. Un consenso che ti dà ancora più responsabilità, anche più rispetto a quella del 2019. Penso che sia stata premiata, almeno io voglio pensare questo, la concretezza che abbiamo cercato di fare, tutto ciò che c'era scritto nel programma, e la coerenza di ripresentarci agli elettori e rimanere con quella coalizione che avevamo presentato agli elettori nel 2019. Questa coalizione nuova che abbiamo creato nel 2024 è una coalizione più matura, seppur civica e che affonda le radici nel popolarismo e nel riformismo. Il popolarismo per avere la capacità di guardare i cittadini negli occhi, seguendo gli ideali di Sturzo. Il riformismo di Mattarella, cioè cambiare la realtà con la consapevolezza delle cose che si possono cambiare, delle cose che ci vuole tempo per cambiarle, senza fronzoli, senza chiacchiere, ma con molta concretezza.